Ciao a tutti ragazzi sono Andami oggi, siamo di nuovo qua su Minecraft nel 41esimo episodio Oggi vi farò vedere la farm di ferro, come l'ho finita, come l'ho strutturata e come l'ho messa a posto esteticamente Ho fatto un lavoro assurdo, ci ho passato veramente giornate intere Ho contato che più o meno ci ho passato 11-12 ore tra raccogliere materiali e piazzarli E capirete il perché a breve Prima di tutto però vi voglio far vedere un mondo, ok, questo qua, quello di Twitch Perché infatti ho fatto una live su Twitch e ora è noto vi faccio vedere un po' in che mondo siamo spawnati Vi faccio vedere in che mondo siamo spawnati perché è veramente finissimo Eravamo spawnati più o meno in quella zona laggiù e abbiamo trovato questo villaggio Guardate che bel posto, cioè la foresta piena di fiori e bellissimo Quindi vi consiglio di andare a mettere il follow su Twitch Il link lo trovate in descrizione per il mio canale di Twitch Abbiamo trovato questo villaggio ed è bellissimo E pian piano andremo avanti con questo nuovo mondo qua su Twitch Ora vi faccio vedere la farm, guardate che figata Esatto, ho fatto un albero enorme, enorme Ma ci ho passato una vita a farlo Ci ho passato una vita a farlo È venuta una figata assurda Oggi andremo a modificare un po' di cose E andremo anche a fare una piccola costruzione accanto alla nostra farm di ferro Che sforna abbastanza Iron Golem Il che è abbastanza buono Perché ci permette di prendere un po' di ferro in più E oggi appunto andremo a fare anche qualcosetta per quella farm Devo anche andarmi a prendere del legno Perché questo qua Cioè ho praticamente finito tutto il legno Facendo quel cacchio di albero Ma non so perché ho fatto questi Hawkwood Perché mi servivano i log Però va bene lo stesso Io ve lo dico Ci ho passato tanto, tanto, tanto tempo Veramente tantissimo tempo Però ne è valsa la pena Perché il risultato penso sia stato Cioè sia bellissimo da vedere Ho fatto quest'albero qua Ho circondato con legna e foglie Lì vedete anche i villager che stanno saltando Ed è bellissima Veramente Ed è veramente una figata assurda Lì c'è già un villager Perché l'ho portato dalla nostra farm di villager Che funziona Perché infatti ho riempito anche i villager lì dentro E questo è diciamo Il risultato finale Perfetto Con questo zombie che mi ha un po' spaventato Questo è il risultato finale Della nostra farm di ferro Che è bellissimo Davvero io Non so come Non so come dirvelo Io amo sta costruzione Penso sia stato Il progetto più grande Forse che io abbia mai fatto Perché sì Ci ho passato veramente tantissimo tempo dietro Ho messo i villager in tutti i lati E pian piano spuntano dei golem Che cadono e cadono nella lava E bruciano e muoiono Ed è finita lì Qui ovviamente ho lasciato tutto lo spazio vuoto Non costruendo nulla all'interno di questo quadrato Perché se costruivo qualcosa magari il golem spawnava lì E nessuno lo spostava C'è qualcuno che ha aperto una porta così a caso Però l'importante è che non vadano dentro la piscina E muoiono tutti E ora scendiamo E procediamo alla costruzione di una Un piccolo edificio Qui Oh c'è pure un golem che sta bruciando adesso Quindi vedete anche il funzionamento Siamo già a 36 di legna Sì di legna Di ferro Quindi Abbastanza buono Perché questo qua ci porterà a 41 Quindi ci ha dato altri 5 lingotti Come farm funziona veramente bene Lo spawn rate è decente Non mi aspettavo nulla di eclatante Però comunque Di golem ne spawnano abbastanza Quindi non mi posso lamentare E niente Spero che appunto vi piaccia questa costruzione Se vi piace mi raccomando lasciate un like Perché merita sta cosa Ok allora Andiamo a dormire Così almeno facciamo passare la notte E andiamo a costruire questa nuova costruzione Che sarà diciamo l'edificio di un fabbro Questo edificio del fabbro Praticamente si strutturerà molto semplicemente Con un po' di legna e un po' di pietra E forse un piccone Diciamo una pixel art di un piccone sopra Così almeno ci permetterà anche di capire Che lì c'è il ferro Ok prendiamoci un po' di materiali Perché ovviamente Non so quanto potrebbe servirmi Però voglio essere comunque abbastanza sicuro Di finire subito questa costruzione Che sarà molto semplice Ma ci servirà Direi quindi di togliere un po' di terra qui Perché dobbiamo farlo un pochetto più in basso Per approfittare degli hopper Che mi porteranno il ferro Diciamo subito nella costruzione Senza usare robe strane Tipo di spencer E mille cose Perché voglio semplicemente Usare i dropper I dropper Porca miseria Gli hopper Per portare il ferro Fino qua Molto semplicemente Quindi Usiamo appunto Il legno che ho appena preso E facciamo una piccolissima costruzione In questo modo Allora Possiamo mettere dei log In questo In questa posizione Farla Larga 3 Allora Purtroppo non ho ancora messo la webcam In questo In questi episodi Perché ho dei problemi con la webcam E con il programma che uso per registrare Mi dispiace Se magari non vedete la mia bellissima faccia Per un po' Però Fidatevi Secondo me è meglio così Perché non sono molto un bel vedere Comunque Direi di piazzare queste scalette Al contrario E qui fare un muro Con questi materiali Alternare questi tre blocchi Ed è una cosa che consiglio anche a voi Perché Cambiare texture Come vi ho sempre detto Senza fare dei blocchi tutti uguali Aiuta moltissimo Ma veramente tanto 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 Nella riuscita delle vostre costruzioni Per renderle anche Meno monotone E lo piazzerò lì Direi di togliere anche la terra per terra Perché mi fa abbastanza cagare Ehm L'idea Del Della costruzione del fabbro Mi è arrivata Da Una persona in live Su twitch Me l'ha detto Una persona che Aveva già visto il fabbro Nella vecchia isola Comunque spero che vi piaccia Diciamo Questo nuovo stile Di Di video Perché infatti Non ci sono Diciamo Canzoni in sottofondo Non Cioè Voglio tenere proprio Un commentare vecchio stile Per Per queste Per questa nuova Diciamo Un nuovo ritorno Anche se non sarà un ritorno Come ho già detto Perché non avrò tempo Poi in futuro Però Sì Allora Direi di fare Adesso Gli hopper Perché gli hopper Ci serviranno Un sacco Togliamo queste Perché infatti Non ci serviranno In questa zona Togliamo anche questo E Con questo Hopper Andiamo giù Andiamo giù E Ci spostiamo In questa zona Cominciamo a piazzare Gli hopper Che ovviamente Devono affacciarsi L'uno dietro L'altro Perché Così almeno Riesco A Ok Riesco a A fare sta roba Devo fare un salto Un po' acrobatico E Me ne servono solo più Due in realtà Sì Quindi possiamo anche farli Immediatamente Ok Abbiamo i nostri hopper E li andiamo di nuovo A piazzare Poi ovviamente Dobbiamo coprire Il tutto Con Ste cose Facciamo così Così almeno Non si vede E Tac Così Questi hopper Si affacciano tutti A questo qua Nell'angolo Possiamo Di nuovo rompere Porca miseria Questo Vediamo un po' Se arriva Perché mi serve Ok Funziona tutto Quindi non ci siamo persi Dei blocchi per strada Perfetto Devo di nuovo Andarmi a prendere Del vetro Perché dobbiamo Assolutamente coprire Tutto qua Magari facciamo anche In questo Modo Quindi Dobbiamo solo più Mettere tre pezzetti Di vetro E Qui Semplicemente Copriamo Un po' Poi Erba 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 Mettiamo la terra Che copre Il tutto E siamo A posto Sì Direi proprio Che siamo a posto Dai forza Dai su Dai Magari ti potrei chiamare Pure frank Dato che Mi sono dimenticato Di mettere il cartello Del capocantiere In cima all'albero E magari Lo metto Lo metto qua Lo metto Fabbro Fatal frank L'uomo del ferro Che mi ha consigliato Come si facessero Come si faceva Come si faceva La farm La farm Di ferro E Purtroppo Ho modificato Il suo layout Però Diciamo che Grazie all'aiuto Di Fatal frank Sono riuscito A A far Questa Questa farm Di ferro Che volevo far Da una vita Con degli slab Direi che possiamo fare Una cosa Di questo tipo Ovvero Così E qua Si alza Un po' Il tutto Sto improvvisando Completamente tutto Anche perchè Questa costruzione Era inutile Prepararsela Perchè Una piccolissima Costruzione Di questo Di questo calibro Era un po' inutile Studiarsela Però Devo cercare Di piazzare Sto blocco sopra Perfetto Quindi Questo posso romperlo E Posso piazzarne Un altro Qui Qui Ok Perfetto Mentre aspetto Che la terra Qui diventi erba Io ne approfitto Per andare a dormire Mi so Abbiamo i nostri vetri Direi No Crepe No 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 Lo avevo sentito Non l'avevo sentito Sentivo già qualche Bastardino Che mi stava Correndo dietro Purtroppo L'arco Non ce l'ho dietro Ma come vai Non ho l'arco dietro Non lo so Mi si Cioè mi son salvato Un po' il pelo Eh lì Sono sincero Mi è andata anche Abbastanza bene Purtroppo Forse il tetto Sarà un po' monotono Nel senso che Avrà solo Questo materiale Però In questo momento Ho poco tempo Ok Quindi non Non linciatemi Solo perché ho detto Sta cosa So che Dovrei Metterci Molto più tempo In quello che faccio Su youtube Ma Purtroppo Ho anche una vita E devo fare Anche altre cose Quindi Mi dispiace Se sta costruzione Parte Ok Torce Torce dentro Direi che una torcia Qui No Una torcia Qui Ci può stare Qui magari ci metteremo Un vasetto Con un fiore rosso Per Immacolare Il La nostra Iron farm E col ferro Che abbiamo Direi di farci Dei blocchi di ferro Per fare La La pixel art Di cui vi ho parlato Prima Fa Veramente Cagare Sta cosa Mi sto pentendo Molto Di aver fatto Questo piccone Orribile Però forse Aggiungendoci Qualche scala Migliorerà Io non credo Proprio Ma forse Sì Cioè Spero Più che altro Perché Veramente Una cosa Così È orribile Da vedere Però Boh Io aspetto Anche i vostri Commenti Magari In questo Modo È anche Un pochetto Meglio Io con le pixel art Ho sempre fatto Schifo E in effetti Starete tutti Dicendo Sì In effetti Possiamo capirlo Anche da soli Che fai schifo Con le pixel art Perché infatti Sto cosa fa Veramente Cagare Quindi Qui ci sarà Poi L'iron golem Che cadrà E farà Appunto Arrivare Il ferro Tramitte Il nostro Sistema Di hopper Fino A questa Cesta Qui ci metto Il ferro Rimanente Qui posso Anche Piazzarci Tutte Ste cose Che intanto Non mi servono Ho delle ossa Ho delle ossa Quindi possiamo Piazzare un po' Di erba Qua attorno Come avete visto L'ho già piazzata Un po' Tutta lì Perché volevo Migliorare La base Dell'albero Però Con questo Ulteriore Bon meal Posso finalmente Andare ancora avanti Con le decorazioni Un'altra cosa Che vi consiglio Appunto Di usare Sempre L'erba Per Per decorare Le vostre cose Devo andarmi a cercare qualcosa Per fare un piccone decente Perché sta cosa qua Fa veramente Cagare Probabilmente Magari lo farò Anche dritto Però diventerebbe Troppo grosso Quindi Forse dovevo Proprio fare L'entrata di tre Forse si Però Hey Aspetto anche Dei vostri consigli E niente Io con Questo visuale Ora cerco Una bellissima visuale Vi saluto Perché No vabbè No vabbè Dai Dai Insomma Insomma Cos'è sta cosa Cos'è sta cosa Io amo Amo veramente Tutto Tutto quello che c'è Dietro di me Dalla Shaders A sto cavolo di albero Al Anche la piccola costruzione Che abbiamo Effettuato in questo episodio Comunque Niente Noi possiamo vederci Nel prossimo episodio Che non so quando uscirà Perché ovviamente I miei impegni Esistono sempre Non è che Da un giorno all'altro Scompaiono Però Fidatevi che Ce la sto mettendo Veramente tutta Per portarvi Più video Perché Mi mancava Anche fare dei video E Vedere anche il vostro Il vostro supporto Quindi mi raccomando Lasciate un bel like E seguitemi su Twitch Quindi andate a mettere Il follow Il link dovrebbe essere In descrizione Se mi ricordo di metterlo E E niente Noi ci vediamo Nel prossimo video O live Ciao a tutti